Taranto via Dante, l'amministrazione Melucci ne ha combinata un'altra, guardate lavori per il rifacimento dello spartitraffico in via Dante, della pista ciclabile, cosa si fa? Si abbattono gli alberi, si abbattono gli alberi in una città che è martoriata dal dramma ambientale, in una città come Taranto che ha bisogno come l'aria, come il pane del verde, del verde pubblico, l'amministrazione che fa? Pensa alle follie, tra virgolette, perché scusatemi, le piste ciclabili ben vengano, ma laddove è necessario, è importante, è consono, è adeguato metterle, Ma qui si stanno mettendo a Taranto piste ciclabili come se fossero coriandoli, come se fosse il formaggio sui maccheroni e per contraltare l'abbattimento degli alberi. A me duele il cuore vedere questo contrasto tra gli alberi che c'erano, gli alberi abbattuti e questa nuova cementificazione, questa realizzazione dello spartitraffico. è una strage di alberi, una strage di alberi che parte per tutte, che percorrerà tutta Via Dante, siamo partiti da Via Dante con Via Alemania Grecia, lo vedete, stiamo proseguendo e arriveremo fino in fondo a fare altre stragi, stragi su stragi su stragi, di alberi, di alberi che peraltro non davano fastidio a nessuno, questa è la cosa grave, non davano fastidio a nessuno. Ci ossigenavano i polmoni, arricchivano il decoro urbano, ditemi voi di grazia che senso ha, ma questa è un'amministrazione che non ha rispetto per l'ambiente, non ha rispetto per l'ambiente. Caro Melucci, tu non hai rispetto per l'ambiente, come non hanno avuto rispetto i vari assessori che si sono succeduti nel corso della consigliatura e ora anche abbiamo il neo-assessore Marti, assessore all'ambiente. Che ne dici Marti? Tu che professionalmente, con la tua attività di attore comico, fai ridere e sorridere la gente, con questa scelta infelice, fate piangere la città. E i sedicenti ambientalisti che stanno in consiglio comunale, mi riferisco ad Antonio Lenti, a Luca Contrario, quelli che urlavano per la difesa dell'ambiente, per la difesa del verde pubblico, ora cosa fanno? Tacciono! Stanno in maggioranza, stanno accanto a Melucci, sono lontani i tempi dei megafodi e delle urla, caro Lenti e caro Contrario, ora non avete aperto bocca su questa strage di alberi. Credetemi, dovete soltanto vergognarvi, c'è da vergognarsi. Nelle altre città si moltiplica, si crea il verde urbano, il verde pubblico urbano e qui andiamo a buttarlo a terra, a distruggerlo, a demolirlo. Non ho altre parole, questa è la Taranto targata Rinaldo Melucci. Questo sindaco ha il coraggio di parlare di ecosistema Taranto, di Taranto Green, guardate, gli alberi stramazzati al suolo e viva la cementificazione. Che pena, che schifo!